È stata una bellissima esperienza in cui un pop a casa, un insieme di emozioni legate a tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno arricchito con le loro esperienze e io spero di aver dato che ho conosciuto per loro. È un'esperienza che ho vissuto in un contesto, molto bello e soprattutto per essere socialmente è stata un'esperienza scoperta.